E' la solita storia, in casa Lupo in trasferta Pecorella. Si fa fatica a capire come il Rimini possa cambiare pelle così metodicamente nel giro di sette giorni, quelli che di solito dividono una sfida al Neri da una on the road. Fatto sta che anche a Cava dei Tirreni, la truppa di Melotti una volta sotto nel punteggio ha reagito poco e male, finendo con il perdere la partita. Le sconfitte esterne salgono nuove, troppe per chi spera in un posto nei play-off, ora distanti quattro lunghezze, anche se sabato ci si può ravvicinare vincendo il recupero con il Pescina. La gara dell'Amberti è condizionata ad un vento fastidioso. All'undicesimo Bernardo lavora palla, poi fa proseguire Santarelli, sul cui cross si fionda Turienzo, il suo colpo di testa finisce oltre la traversa. Al quarto d'ora Bernardo per Turienzo, fermato con vigore da Vitiello, l'arbitro fa proseguire tra le proteste dell'attaccante argentino. Al ventunesimo sugli sviluppi di un corner di Regonesi, Frara tenta la girata, una deviazione fa terminare la sfera a pochi centimetri dal palo. Al venticinquesimo contrasto ruvido tra Favasuli e Cardinale. Turienzo raccoglie il pallone e lo indirizza sotto l'incrocio, 1-0 per la Cavese e primo centro in bianco-blu per il puntero di La Plata. Al minuto 35 traversione di Favasuli, colpo di testa di Turienzo, Pugliesi si salva in due tempi. La ripresa inizia con una sforbiciata del solito Turienzo, pallone lontano dai pali e il quinto. Al diciottesimo la rasoiata da fuori di D'Antoni viene controllata con lo sguardo da Russo. Al ventinovesimo scatta il contropiede della Cavese. Bernardo serve un babà Turienzo, che non ha più appetito, sfera a fondo campo. Finisce 1-0 per la Cavese, che sa la quota 28 in classifica, solo due punti sotto in Rimini. Questa è stata l'ultima volta che in campo sono sesi quelli che non avevano gli attributi. Adesso d'orino avanti, siccome il gioco latita, io ho bisogno di gente da domenica prossima anche più scarsa tecnicamente, ma che in campo me lo trasformi in un orto. Il problema, come ho detto loro alla fine del primo tempo, è soprattutto un problema di settore. Il difensore deve fare, il difensore, il centrocampista deve fare, il centrocampista e l'attaccante deve fare l'attaccante. Con tutto quello che ne consegono i movimenti fondamentali di ruolo. Se l'attaccante sta sempre attaccato al proprio difensore, è impossibile che trovi uno spazio per poter giocare. Anche perché non ci sono schemi particolari da fare durante la settimana per far capire a un giocatore che quando vede un giocatore con la maglia diversa dalla sua, si deve solo spostare. Il secondo tempo, noi abbiamo iniziato il secondo tempo con Longobardi e Morante di punte e Tulli dietro le due punte. Abbiamo fatto una specie di 4-3-1-2 con Tulli che doveva giocare tra le due linee e svariare sul fondo d'attacco. Chiaro che non sono state fatte le cose che pensavamo che potessero essere fatte, questo è fuori discussione, perché altrimenti saremmo stati più pericolosi, perché anche noi nei grossi pericoli della Cavese non ne abbiamo dato, obiettivamente. Ma quello che mi ha un pochino così, diciamo, fatto un po' deludere è il fatto che non ho visto quella grinta, quella determinazione a parte dei miei giocatori per riacquistare questo risultato qua che era ampiamente la nostra portata. Non mi sembra che la Cavese, nonostante il primo tempo a favore di Vento, abbia fatto un volume di gioco talmente esagerato da metterci in difficoltà, non mi sembra. Ci hanno creato dei problemi, però mi fa piacere che a distanza di sette giorni da una partita veramente giocata bene, tecnicamente, tatticamente, oggi è venuta fuori una prestazione rabbia e sudore, no? Come ci chiedono i nostri tifosi e penso sia stata proprio una partita in quel senso giocata veramente bene. Rimini ha degli ottimi giocatori dal punto di vista del palleggio, ha dei giocatori di categoria superiore, perché Cardinale, Frara, D'Antoni, Regonesi, Tulli, eccetera, eccetera, insomma sono giocatori, ma questo lo sapevamo, lo sapevamo, l'avevamo detto in settimana, che magari Rimini è un po' meno quadrato della Reggiana, però ha tantissima qualità in più. È evidente che Rimini c'era da aspettarselo che magari in fase di palleggio ci avrebbe creato delle difficoltà, però non mi ricordo una parata importante di Russo oggi.